buonasera milano l'inter punta sui vecchi questo è il messaggio che stanno facendo passare le tv la stampa e quant'altro bene allora partendo dal dal fatto che l'inter ha deciso di non puntare più su tonali hanno fatto passare il messaggio che l'inter ha deciso di fare una squadra di vecchi per via dell'esperienza per vincere subito allora vediamo che tipo di mercato sta facendo l'inter e poi riprendiamo il discorso su tonali allora l'inter per il momento non ha fatto molte operazioni però l'idea è di cambiare biraghi e candreva con akhimi e kolarov akhimi e kolarov sono già stati presi quindi innanzitutto se facciamo la somma dell'età di biraghi e candreva non mi sembra che ci sia molta differenza anzi akhimi è anche un giovane a 21 anni un giovane di qualità molto alta un grande giocatore e kolarov pure un bel giocatore che può ricoprire più di un ruolo in grado di calciare bene le punizioni cosa che all'inter non succede da tanto tempo non non c'è all'inter un tiratore che consenta di disegnare qualche gol su punizione da anni ormai adesso in rosa c'è ericsson però se non giocano un po calciare le punizioni una la messa sulla traversa nel derby con il milan e quindi insomma non mi sembra corretto questo discorso sul fatto di puntare sui vecchi anche perché discorso tonali tonali costava più di 30 milioni ok conte ha sempre voluto vidal o comunque un tipo di giocatore alla vidal si parla anche di cantè che secondo me è più forte di vidal comunque potrebbero arrivare anche entrambi quello che è sicuro è che oggi entrambi sia vidal che cantè sono più forti di tonali più pronti più funzionali al al progetto dell'inter e comunque sia al al modulo di conte quindi io condivido la linea della società che ha preferito lasciar perdere tonali e puntare su altri obiettivi e poi comunque sia vidal si può prendere a zero adesso a gennaio mi sembra che hanno chiesto 18 milioni per vidal quando poi l'inter ha deciso di puntare su ericsson quindi vanno sempre viste globalmente le situazioni e poi vorrei anche capire una cosa ma tonali visto che ci sono stati titoloni anche sport mediaset ha aperto qualche giorno fa il giornale dicendo tonali strappato alla concorrenza dell'inter ma allora è stato strappato la concorrenza dell'inter o è l'inter che ha mollato tonali a me risulta che sia l'inter ha virato su altri obiettivi perché aveva in mano il giocatore no e quindi perché fare un un telegiornale sportivo aprendo con una notizia che io considero fasulla tonali non è stato strappato dal milan all'inter hanno poi rincarato la dose intervistando galliani che ha dichiarato tonali ha sempre preferito il milan ma non è affatto vero tonali è milanista era milanista da ragazzo ma a me risulta che preferisse venire all'inter comunque sia non è che mi aspettassi poi dichiarazioni di tonali una volta preso dal milan beh peccato sono al milan ma avrei preferito andare all'inter vabbè chiusa parentesi comunque è chiaro che le notizie le danno come vogliono loro no inoltre se posso dire la mia su questo fatto forse per tonali è meglio così perché a me sembra che nel roster dei centrocampisti dell'inter se poi aggiungiamo vidal e chissà magari cantè ma anche uno dei due con rientro di naingolan che ora vedremo se verrà ceduto oppure no con la presenza comunque di barella brozovic il riscatto di sensi per 20 milioni probabilmente hanno deciso di puntare su su sensi hanno rischiato rischiato di sensi anziché puntare su tonali anche se poi tonali con 20 milioni non non lo si comprava perché cellino voleva altro non 20 milioni quindi sono state travisate le cose l'inter sta facendo un ottimo mercato secondo me e a quelli che dicono che l'inter punta sui vecchi io faccio notare che è un grande upgrade quello che è avvenuto con l'acquisto di kolarov e akimi anche se probabilmente kolarov non sarà il titolare sulla fascia sinistra probabilmente verrà preso un altro giocatore con yang dirottato sulla fascia destra come riserva di akimi kolarov può fare anche il difensore centrale insomma un ottimo acquisto un giocatore di di grande livello questi sono i giocatori che servono all'inter poi gli stessi che dicono oggi che l'inter sta facendo una squadra di vecchi magari sono quelli che avevano criticato la scelta dell'inter di una decina di anni fa di lasciar perdere acqua fresca già di proprietà dell'inter mi pare in prestito al cagliari in quel periodo lasciar perdere acqua fresca e puntare su milito beh mi sembra che in quel caso sia andata meglio così no quindi scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate condividete questo video con i vostri amici e iscrivetevi al canale e se vi va date un'occhiata anche al canale di gm 1000 che fa dei video molto interessanti un saluto a tutti